buongiorno a tutti cari amici cacciatori e soprattutto beccacciai oggi secondo giorno che vado a beccacci diciamo che la prima volta non ho visto niente solamente che l'apo si ferito una gamba con l'ospinato e ho dovuto dare 20 punti di sopravveterinato infortunato a casa mi trovo solo conto vediamo se riesce lui con la sua esperienza a trovare qualcuno sembra che ne sia entrato qualcuno terreno molto secco il tempore di giorno intorno ai 25 gradi una cosa molta norma per questo vi riesco sono qua vediamo che succede ci aggiorniamo dopo mai dire mai che c'è bello che c'è beccacciolo eh poi ambas l'amore che c'è beccacciolo che c'è beccato Grazie a tutti. 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 Vai. 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 tolta ma che è lei è un'emozione a scedire una pietra un'emozione al mare la gioca si tratta ragazzi vai si tratta si tratta un'emozione che cosa c'è 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 a fare a a a porco a 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 bello bravo 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 la prima ragazzi la prima la prima è arrivata anche per me felice bravo 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 la prima bravo bravo un po' viva leggermente viva bravo 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 la prima la prima la prima la purtroppo è rimasta un po' viva ma è caduta sembrava abbastanza bene ragazzi veramente la prima beccace è arrivata anche per me e la prima è sempre la prima e la più emozionante quella dell'altra volta che ho avuto la sportuna di non poterla catturare quindi doppia soddisfazione per questo non si deve mai amareggiare quando fa una padella, perché poi la posta è morta la puoi ritrovare può fare divertire le nuove cani. Certo, tranne che la trovo qualche altro cacciatore prima di te e quindi trovo un bel niente. E vabbè dai, sono contentissimo, se ne posso trovare un'altra la trovo dopodiché si va a casa. Qua è partito, vengo ancora un marchio. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 E' peccato che non l'abbiamo potuto riprendere, poi rinvermo, questo vecchio l'abbiamo ribattuto di nuovo. E' poverino, non lo so, ha problemi buoni. Bello, bello, bravo. Bra, bravo.